si si ti parlavo dei miei problemi no? si ho parlato del dottore l'altra volta non so se ti interessa ti ricordi che te l'ho accennato via facebook si si ma te che hai quel video qua? no è quando hai presente che quando hai ce l'ho capiscimi stai dicendo parole a caso no ce le devo mischiare a un tetris avete presente quando avete la parola giusta ma non ve la ricordate lì sulla lingua e e ve ne vengono in mente altre duemila e non ce l'avete? ecco ad esempio lei venga un attimo di cortesia la sera non c'è la porta? no le do la mia e si mette qua e si mette qua e pensa a degli oggetti ma degli oggetti che vuole lei no? ok noi probabilmente avremo bisogno delle parole e le chiederemo a lei ok? però non devo concentrare niente con questo discorso cioè lei le pensa prima ad esempio apro il frigo e le trovo penna bravo riconoscete voi grazie 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 grazie